Siamo qui con Marco Belli, direttore sportivo del Certosa. Oggi è l'ultima tappa di un cammino lungo non solo questa stagione mister, ma lungo tutti gli anni che i 96-97 vi hanno dato. Sì, questo è un momento brutto, ma bello allo stesso tempo, perché siamo venuti per la prima volta a giocarci una finale, ce la siamo giocata a testa alta, anzi altissima, e sono veramente orgoglioso di tutti questi ragazzi, orgoglioso del loro mister, orgoglioso dell'approccio alla partita e tutto quanto. Queste purtroppo sono le emozioni dello sport, solo il calcio riesce a dare queste emozioni che possono essere a volte bellissime, a volte delusioni, però bisogna per i ragazzi anche fargli solamente un grande, grande, grandissimo applauso, perché hanno onorato il calcio, hanno onorato la maglia e hanno onorato questo bellissimo sport. Dopo un primo tempo un po' difficile, nonostante l'ottimo approccio del primo quarto d'ora, siete usciti nella ripresa a Marco. Cosa ha detto Cristian Ranalli negli spogliatori, ma soprattutto cosa hanno provato questi ragazzi nel ribaltare il match così, ovvero nel provarci? Guarda, Cristian è, oltre a essere secondo me, un grande allenatore a livello tattico e anche tecnico, è sicuramente comunque un grande motivatore. Io credo che il fatto che lui abbia giocato per tanti anni a livelli molto importanti lo abbia aiutato molto in questo. Io l'ho visto anche l'altro anno quando facevamo i regionali, lui nei momenti di difficoltà ha sempre trovato le parole giuste e dato le motivazioni giuste soprattutto ai ragazzi. Credo che questo derivi anche dal fatto che secondo me lui si senta ancora giocatore. Ultime due battute, Marco. La prima su questo gruppo, tanti 96 che hanno fatto la storia per voi, che hanno dato tanto, adesso speriamo che qualcuno si sia accorto del volo di alcuni elementi, no? Sì, sicuramente. Ripeto, da parte loro c'è tantissimo spirito di appartenenza. Però è giusto che i ragazzi adesso vadano a giocarsi le loro chance, a giocarsi nel calcio perché le possibilità le hanno. L'altra battuta, scusate, lo dicevo, sicuramente terremo ovviamente fuori quota, anche perché abbiamo intenzione quest'altro anno di potenziare un discorso di prima squadra, quindi credo che più di qualcuno rimarrà con noi, insomma. Però è giustamente, se arrivano richieste, siamo ben contenti che loro vadano, insomma. Ultima battuta, però, sugli agli ai fascia B, Marco, che alle finali ci sono già con parecchi turni di anticipo. Cosa può insegnarvi questo quarto di finale che voi avete affrontato bene e in cui siete davvero a un passo dalla meta? Guarda, ti ripeto, il nostro è stato un processo di crescita neanche tanto lento, perché ci siamo trovati in pochi anni con tutte le squadre in élite, addirittura a giocarci due finali che non avevamo preventivato. Devo essere sincero, anche qui magari dobbiamo tutti quanti imparare un qualcosina, però onestamente non la devo imparare da oggi, perché oggi, secondo me, hanno fatto tutto quello che era stato chiesto ai ragazzi, quindi l'approccio... È chiaro, noi andremo anche lì a incontrare una big, perché andremo a incontrare, questo già si sa da tempo, la Vigor per Conti, i campioni d'Italia, l'altro anno con i 99, quindi sicuramente siamo noi l'intrusa di queste finali e ce la metteremo tutta anche là per andare il più avanti possibile e comunque per uscire, ripeto, a testa non alta, ma altissima proprio.